La vettima si chiama Leo Kopernick, signore. Sembra che sia stato ucciso nella sartoria. E poi trascinato qui. Messo in scena, per così dire. Scusi, signore. Mi dica, per quanto tempo ancora ci terrà in ostaggio? Questa è l'idea, radunare i sospettati e interrogarli finché il mistero non sarà risolto? Marvin Coker-Norris, drammaturgo sopravvalutato. Celebre drammaturgo. Mi scusi, signore. Ho una brutta grafia. C'è stato un incidente. Ti ucciderò. Vale come confessione. Non salti subito a conclusioni, agente. Che cosa abbiamo qui? Gli straordinari, eh? Uccide Kopernick per coprire la tresca. Caso chiuso. L'ho fatto ancora, eh, signore? Salto a conclusioni. A conclusioni, sì. Un po'. Ma hai sentito parlare di Richard Attenborough? Un detective in carne e ossa. So che siete venuti alle mani quella fatidica sera. Sono stata io, detective. L'arresto per l'omicidio di Leo Kopernick. Abbiamo un assassino seriale a piede libero. Via dalla porta! Tiene la chiave! Sotto lo zerbino. Non siamo solo dei sospettati. Siamo anche... ...delle potenziali vittime. E cosa faceva che lo rendeva sospetto? Non era tanto quello che faceva, era più come lo faceva. E come lo faceva? In modo... ...molto sospetto. Giusto? D'altro modo... ...molto sospetto.